Voi siete chiamati ad essere protagonisti e non spettatori del futuro. Siamo interpellati dalla Costituzione nella costruzione di un avvenire migliore e soprattutto che dobbiamo costruirlo insieme. Vi domando, il futuro si può costruire da soli? Non sento. Dobbiamo costruirlo? Sì! Bravi! Non possiamo solo delegare le preoccupazioni per il mondo che verrà e per la risoluzione dei suoi problemi all'istituzione deputata e a coloro che hanno particolari responsabilità sociali e politiche.